Il teatro è preciso il teatro dove avremo modo di assaporare, di conoscere da un lato temi delicati come la terra dei fuochi e anche la camorra, dall'altro lato una speranza riposta nella lotta per il proprio futuro dei giovani di Scampia. Tutto questo ritroviamo al centro di uno spettacolo rititolato O bene o male, uno spettacolo che ha riscosso già un grande successo, torna a Roma, Teatro Roma di Portici il 20 febbraio e invece dal 21 al 23 sarà il Teatro Totò di Napoli. Tra i protagonisti abbiamo la straordinaria Marianna Mercurio che oggi è qui con noi. Ciao Marianna, ben trovata. Grazie, ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Senti, sei protagonista di questo spettacolo O bene o male perché in realtà è uno spettacolo che un po' si divide in due, da un lato abbiamo temi molto delicati che riguardano da vicino il nostro territorio come la terra dei fuochi e quindi naturalmente anche la camorra, ma d'altro lato la voglia di chi vuole riscattarsi, di chi vuole lottare per sconfingere questo male. Certo, in questo caso io rappresento il bene, ovvero questa moglie che cerca di lottare con il proprio marito e quindi con il male che gira intorno sia al marito sia poi alla propria famiglia perché nella storia ho nostra figlia che si ammala di tumore purtroppo, una bambina di 5 anni e anche se sembrerà assurdo vederlo in teatro purtroppo è un tema che ci è molto vicino ed è molto presente, sempre più presente. Di conseguenza, non dico se vince il bene o il male perché poi va visto lo spettacolo, però sicuramente lo spettacolo è molto toccante perché solitamente il musical è un coinvolgimento musicale, poi le musiche di Franco Ricciardi, nonché protagonista di questo spettacolo, sono molto coinvolgenti, sono piene di contaminazioni, anche proprio il suo genere musicale è molto forte. Però allo stesso tempo c'è un tema che fa riflettere, quindi questo contrasto fa sì che la gente esce entusiasta. Naturalmente abbiamo detto un grande successo, tant'è vero che torna al teatro di Portici il 20 febbraio, protagonista è il plurivincitore dei debiti di Donatello, Franco Ricciardi, che in questo caso, in uno spettacolo, riveste i panni del capozona. E qui un po' si scontra con te. Beh sì, perché io sono la classica moglie napoletana che non vuole che suo marito, come dire, frequenti certi ambienti. Però sicuramente quando si ammala nostra figlia ci torna in faccia una realtà che fa riflettere a me, a lui e anche a un bel po' di persone che lo circondano. E' un po' di riflessione, perché in questo caso la malattia di tua figlia, nello spettacolo, viene letta come? Come una punizione di vita? Esatto. O un modo per... Come una punizione, infatti, a un certo punto hai centrato. Io dico a lui, perché io mi trasferisco per le terapie di nostra figlia, e dico a lui non venire con noi, perché probabilmente il Signore... Perché tu devi trasferire a Monza, e quindi si parla di questo trasferimento. Esatto, e probabilmente il Signore che ci vuole punire per ciò che tu hai fatto. Però devo dire che poi, insomma, ci sono tanti giovani, quindi un po' rivivo i miei tempi di scugnizzi, quando ero in questa, diciamo, in questa energia di gioventù, di ragazzi, e a differenza di prima, adesso sono io quella grande, però si viene comunque, come dire, travolti da questi ragazzi che hanno tanta speranza, tanta voglia di vivere. Dici bene, perché il messaggio fondamentale che poi, ecco, si lascia al pubblico è proprio questo, il messaggio di speranza, la speranza per tanti giovani ragazzi, ragazzi di Scampia, o bene o male, sono due titoli, no, che di sempre hanno riguardato in realtà il mondo, la lotta tra il bene e il male, in questo caso, è la lotta per fare in modo che i giovani ragazzi del nostro territorio, quelli di Scampia, possano scegliere la strada del bene. Esatto, infatti, anche essendo molto giovani, anche i ragazzi che vengono a vedere lo spettacolo, perché poi Franco ha un pubblico variegato, troviamo le donne, quelle, insomma, che ora sono diventate madri, che sono fan di Franco Ricciardi, e poi ci sono le figlie, perché lui comunque si è sempre, come dire, rinnovato musicalmente, per cui c'è questo pubblico così vasto nell'età, che però riflette insieme e vedere dei ragazzini che poi se ne vanno con un messaggio forte, fa sì che appunto si va a, come dire, a sanare il tempo. Esatto, proprio anche già l'adolescente. Il ragazzo è un messaggio importante, uno spettacolo imperdibile assolutamente da vedere, in questo caso il teatro ha un ruolo importante per salvare i ragazzi dalla strada, Marianna. Sì, io il teatro lo amo perché quando ha una funzione sociale, e nella maggior parte dei casi ho sempre fatto spettacoli che hanno questa funzione, è comunque una salvezza, perché diciamoci la verità, anche io vengo dai vicoli, potevo intraprendere altre strade, e anche a me il teatro mi ha dato tanto, mi ha tolto poi da un percorso che magari poteva vedermi coinvolta anche, come dire, in una strada diversa, No, no, perché quando nasci in un vicolo, una famiglia numerosa, per carità, la mia famiglia, tutti i lavoratori, però è ovvio che se nasci in un contesto puoi incontrare comunque delle strade diverse. Mentre già quando io frequentavo pure De Filippo mi faceva essere testimonianza del fatto che comunque il teatro mi ha salvata, mi ha portato in mondi completamente diversi. E io quando vedo questi ragazzi, anche dietro le quinte, che sono preoccupati, ci parlo. Infatti tra i più piccoli poi c'è addirittura Claudio Malfi Junior, che è piccolissimo, che ha un amore per il teatro, una passione, oltre a tutti gli altri ragazzi, è ovvio, che mi coinvolge, ha un'educazione, un rispetto, conosce le parti di tutti quanti gli altri, che dici adesso esce quello, esce quello, dobbiamo essere professionali. Questa cosa ti fa capire che nei giovani di oggi c'è ancora tanto terreno fertile. Terreno fertile è voglia di cambiare strada, di emergere, esatto. Nonostante poi si cresce in certi contesti, perché Napoli ha due aspetti della stessa medaglia. Il bene e il male, stanno a scegliere qual è la strada, sicuramente il bene, lo possiamo percepire attraverso questo spettacolo, assolutamente da vedere, grande successo. al Teatro Totò di Portici il 20 febbraio e dal 21 al 23 al Teatro Totò di Napoli. Grazie a Marianna Merturio e grazie quando vuoi. Grazie, volevo citare al volo la produzione, Anna Cammarota, il regista Donato Eremita, Bruno Lanza, coautore, una penna conosciutissima, e oltre a Franco Ricciardi c'è un cast meraviglioso, le coreografie di Teresa Sannino, che ha creato queste coreografie fantastiche. Spero di non aver dimenticato nessuno e veniteci a vedere al teatro perché il teatro ci aspetta. Vive il teatro, in bocca al lupo, restate con Mattia Noe, piccolo spazio pubblicitario.